Assogomma, nota associazione italiana che promuove la sicurezza stradale in particolare dei pneumatici, anche quest'anno raccomanda l'uso dei pneumatici termici per la stagione invernale. Ma quanto è importante l'utilizzo di un pneumatico invernale nella stagione più fredda? I test sul campo parlano chiaro, al di sotto dei 7 gradi l'estivo smette di offrire buone performance e la sicurezza ne risente in modo particolare. Per mantenere un buon coefficiente di attrito e di sicurezza dobbiamo perciò affidarci a un invernale. In particolare l'utilizzo di una gomma M più S garantisce una maggiore aderenza in partenza e riduce sensibilmente gli spazi di frenata. Come si riconosce un invernale? Semplice la sigla M più S affiancata al pittogramma alpino collocata sulla spalla della gomma, testimonia che lo pneumatico ha superato test di omologazione in condizioni estreme e perciò non si tratta di una semplice autocertificazione della casa produttrice.